Come consuetudine da ormai tre anni e a seguito degli accordi, gemellaggi, intercorsi tra le regioni Piemonte, Sicilia e Calabria, a partire da venerdì 28 giugno, per il Corpo AIB del Piemonte han preso il via le missioni estive extra-regionali di volontariato per attività antincendi boschivi, che impegneranno i volontari con turnazioni settimanali. Il Corpo Volontari AIB Piemonte è convenzionato con la regione Piemonte per... News 24, la tua nuova TV locale.